Ciao a tutti, da Cristian Tiggi, il salutatore del blog, grandissimo Mario Zamma. Ciao, un saluto a tutti gli amici del suo blog. E a tutti i tuoi fans e a tutti gli amici del Bagaglino. Assolutamente, tra un po' torniamo. Ecco, ricordiamo i tuoi contatti su internet e chi ti vuole trovare anche sul social, oltre che al teatro anteprima. Tornate quando? Eh, lo saprete tra poco, comunque torniamo sicuramente al teatro, ci troverete con la simpatia la stessa di sempre, che è quella dei miei amici, con cui abbiamo fatto tante cose belle. Io sono sulla mia pagina di Facebook, Mario Zamma, cliccate, è diventato mio amico.